La sorpresa è stata proprio Birligea, non che non conoscessimo le sue qualità, però prima di Palermo aveva giocato soltanto 27 minuti nella trasferta di Pagani. Sì, anche lo stesso Massimo è rimasto molto sorpreso di questa prestazione, tant'è che anche come ha ricordato lui nelle sue interviste, inizialmente per il ragazzo erano stati fatti altri programmi, cioè quello di mandarlo a giocare fuori, poi è rimasto da noi. Ma effettivamente noi coviamo questa intenzione di farlo, anche perché poi la notizia buona che abbiamo appreso proprio a Palermo, che nel giro di neanche un mese Daniel diventerà cittadino italiano, quindi questo sarà molto importante per la società perché lo potrà sfruttare molto per il minutaggio, Cosa che a noi interessa, perché interessa far crescere i nostri giocatori, ma anche avere una squadra con molti giovani. Forse siamo tra le squadre che sono in vertice aggressivi a utilizzare tantissimi giovani, nessuno fa il minutaggio, quindi questo è un orgoglio, non è solo una questione di soldi, ma anche un orgoglio perché effettivamente la Serie C deve pensare a valorizzare molti giovani per poterli lanciare. Il Presidente Iachini dopo un anno e mezzo di gestione, più o meno, forse anche qualcosa in più, ha cominciato a capire i meccanismi del calcio, una giungla intanto, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti. Una giungla piena di leoni e serpenti, quindi bisogna sapersi adattare e non essere preda, ma bensì essere predatori, tant'è che alcune vicende che si sono succedute mi hanno visto usare il polso duro già in più di un'occasione, perché effettivamente credo che ci sono molte persone che pensano agli interessi propri, né agli interessi dei giocatori, né agli interessi delle società. Io ho sempre detto, l'ho ricordato anche ai ragazzi, che la società è sovrana, la società ha tutti gli interessi per pensare alla sua valorizzazione e i giocatori sono al servizio della società, perché vengono pagati dalla società e devono prestare la loro opera per la società. Naturalmente lei, Presidente, allude al caso Piacentini che si è risolto positivamente, non solo per la società, ma direi soprattutto per il giocatore che era assistito da Silvio Pagliari, ma probabilmente allude anche a Diachitee. Ma guardi, il discorso di Piacentini si è risolto come auspicavamo noi, alla fine noi ritenevamo che il procuratore non stesse facendo gli interessi del ragazzo. Il ragazzo l'ha capito questo, anche perché far saltare un accordo per delle banalità su queste cose poi si vengono a capire, cioè non è che stiamo parlando di... I nodi vengono a pettine, lo dico sì. Per quanto riguarda Diachitee, anche qui c'è stato uno spiacevole episodio, che tra l'altro mi ha visto costretto a mettere fuori lista Diachitee, perché ci sono stati dei comportamenti assolutamente poco corretti e consoni da parte di chi lo assiste. Al solito qui la società è sovrana, è la società che gestisce il valore del cartellino del calciatore e il procuratore deve pensare a fare gli interessi del calciatore nel momento in cui la società decide di trasferirlo, di venderlo e di stabilire un nuovo compasso, perché il procuratore del calciatore non può essere il procuratore che procaccia gli affari per vendere il giocatore a questo o quell'altra società, se non è stato neanche richiesto a fare queste attività. Diachitee mi scusi Presidente, fuori lista significa che non sarà convocato dopo la squalifica per il match col Bari di sabato? Sarà convocato per sabato e forse per altre partite, fino a quando vedremo questa situazione come si andrà a comporre, perché io su certe posizioni per me non vale, innanzitutto questa società non è ricattabile, quindi questa società è la società che detta le regole e quindi o si adattano i giocatori oppure se non si adattano stanno fuori lista. Dietro questa storia Presidente c'è la pressione del Napoli? No, no, non c'è nessuna pressione di nessuna squadra, assolutamente, torno a ripetere, ognuno è libero di fare le prime iniziative, però ognuno deve sapere a che punto ci si può spingere, noi abbiamo la nostra linea, abbiamo le nostre idee, possono essere giuste e sbagliate, ma sono idee nostre, siamo noi quelli che decidiamo come, quando, dove e a chi vendere il giocatore. Siccome l'argomento è caldo, Presidente, ci ha dato una notizia, in sostanza Diachite chiede di essere liberato in questa sessione di mercato? Diachite non può chiedere nulla, Diachite non ha mica il diritto o il dovere di essere liberato, noi lo liberiamo se c'è un'offerta che ci sta bene, perché il contratto con noi è tre anni, ha il suo stipendio, quindi può stare qui tranquillamente con noi per i prossimi tre anni. Sabato Diachite non farà parte della lista dei convocati? Se per te è una notizia, sì è una notizia. Dopo la squalifica, se non torna a disposizione, è un giocatore importante? Sì, ho capito, però bisogna anche rispettare le regole, perché io sono abituato a rispettare le regole e le cose, se le regole non vanno bene vuol dire che uno può stare lì, tanto quello che deve fare si continua a allenare normalmente, però in questo momento non è importante per la società, appunto, siamo molto, su questo siamo molto determinati, io quando dico una cosa l'ho sempre mantenuto, non mi faccio prendere per i fondelli da nessuno. Il giocatore è un po' frastornato evidentemente in questo momento? Ma il problema è che noi queste cose le vogliamo fare anche per salvaguardare il ragazzo, per cercare di dare al ragazzo, di fargli capire quelle che sono, perché purtroppo essendo un ragazzo, diciamo, giovane, straniero, che parla poco bene la lingua e naturalmente nel giro di qualche mese forse è andato sotto i riflessori, cioè si parla molto di lui, a volte si possono anche accendere delle illusioni che sono facilmente disegnate. Quindi noi, innanzitutto, la cosa che io gli ho detto, parlando tranquillamente con lui, perché comunque gli ho detto, guarda, tu per me, oltre ad essere un mio giocatore, sei anche come un figlio, perché sei un ragazzo con l'età dei miei figli, quindi, e ti voglio anche dare dei consigli, visto che sei anche, quindi non devi stare a pensare che qui la società non fa i tuoi interessi, la società fa i tuoi interessi ancora di più di quello che possono fare gli altri, perché se la tua società ti vuole valorizzare e vendere a delle società importanti, lo fa nel momento in cui ritiene che le offerte che arrivano siano congrue, perché se è congrue per la società, per te a maggior ragione sarà più congrue. Ricordiamo, scusi Presidente, anche per dare una maggior informazione più chiara a chi ci segue, in bisogno di ascolto, di Achite ha altri tre anni di contratto, c'è la scadenza naturale 30 giugno? Ma penso 2024. Un contratto lungo, assolutamente sì. Questo è importante dirlo, eh? Sì, assolutamente sì, un ragazzo che si deve formare, dopo tutto è un ragazzo che l'anno scorso veniva dall'Interregionale, era un ragazzo sconosciuto che ha avuto la fortuna qui, ma non tanto, certo per merito delle sue capacità fisiche, ma anche per merito di questa società e di questo allenatore che l'ha valorizzato, perché l'ha spostato da un ruolo dove è arrivato, l'ha messo in un ruolo che è quello del difensore centrale, dove è stato ancora meglio valorizzato, quindi insomma il ragazzo deve capire che sta facendo dalla scuola. Quanto vale di Achite? No, no, questo ancora è il più riservato. Almeno un milione da quello che abbiamo capito. Un milione di che? Almeno? Di pounds, di dollari, di ceci, no, no, non parliamo di cifre perché le cifre le determina il mercato. Di certo quando noi abbiamo dei sentimenti, su quelli cerchiamo di mantenere la linea, se poi dopo ci arrivano delle proposte che sono lontane dai nostri sentimenti, fino a che siamo in grado di poter sopravvivere e vivere, noi andiamo avanti. Questa è anche una risposta di averlo ritirato dal mercato, perché la società è in grado di poter campare abbondantemente, che qualcuno possa pensare o far dicendo in giro. Operazione intelligente, quella che avete fatto per Cianci. Cianci è un giocatore proprietà del Teramo, ricordiamo 10 gol col Potenza in questa prima parte di campionato, ha prolungato col Teramo sino al 30 giugno 2023, è andato in prestito al Bari, chissà se sarà schierato da Uteri, proprio sabato inizio alle 15, Teramo-Bari al Bonolis. È un'operazione giusta per il Teramo, perché va a consolidare il potere contrattuale sul giocatore, ma è un'operazione che va bene anche al ragazzo che torna nella sua Bari. Diciamo così, no? Su questo noi siamo stati molto contenti, perché tra l'altro già prima, durante l'estate, quando avevamo parlato con lui e lui aveva voglia di provare a tornare a Bari, noi non avevamo mai posto il veto su questo. Quindi se il Bari ce l'avesse chiesto, noi l'avremmo dato già volentieri. Poi c'è stato il Potenza, che è stato assolutamente, penso, un ottimo trampolino di lancio per lui, perché comunque il presidente Caiata gli ha costruito una squadra intorno, gli ha permesso di valorizzare le sue capacità, ha fatto ben 10 gol, anche se i risultati del Potenza non sono importanti, e quindi l'ha messo ancora di più in luce. Andare a Bari per lui è una grossa soddisfazione, ma noi siamo contenti, abbiamo naturalmente chiesto, il Potenza sicuramente ha avuto il suo tornaconto su questo tipo di operazione, anche in termini economici sicuramente, noi non abbiamo avuto nulla, però abbiamo chiesto, preteso, di poter alluncare il contratto di un altro anno, avendo un diritto di ricompra da parte del Sassuolo, su questo calciatore, che ci permette di consolidare la nostra posizione, qualora il ragazzo dovesse fare bene, non andare così nella prossima stagione a scadenza di contratto, e quindi poterlo gestire noi un'eventuale vendita di questo ragazzo. Quindi un ragazzo di prospettiva, ha già un buon valore sul mercato, e quindi insomma per noi un'operazione dal punto di vista societario è molto importante. Il Sassuolo, presidente, può esercitare il diritto di ricompra per questo giocatore entro la fine di questa stagione, mi pare, no? Sì, esattamente, entro la fine di questa stagione, se non lo dovesse esercitare, noi possiamo venderlo senza dover riconoscere nulla al Sassuolo, a chi eventualmente sarà interessato al ragazzo, quindi altrimenti continuerà a stare con noi per i prossimi due anni. Quanto ammonta il diritto di ricompra, si può sapere? Queste sono le notizie un po' riservate. Avete preso come difensore, serviva come il pane, Davide Vitturini, che posso garantire? Mi voglio esporre. Garantisco perché lo conosco bene, è stato a Pescara, è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, a parte che è un professionista con la P maiuscola, ma è anche e soprattutto un buon giocatore, che ha fatto la B e anche qualche presenza in Serie A, quindi avete fatto una buona scelta, presidente. Sono contento, mi fa piacere che lo dici anche tu, io naturalmente questa cosa mi era stata rappresentata bene dal nostro direttore sportivo, Sandro Federico, e credo che abbia fatto un'operazione interessante per rafforzare quella parte che per noi era coperta quest'anno da LASIC, che purtroppo si è rinfortunato, e quindi è vero che potrà rientrare in campo, però non possiamo puntare sulla sua continuità e stabilità, quindi dovevamo liberare il posto che oggi è stato egregiamente ricoperto da Pedro, Pedro Costa Ferreira, perché il mister lo vede sicuramente in altri ruoli, in altre posizioni per poter essere ancora più offensivi, e quindi insomma credo che sia stata un'ottima operazione questa qui che ci riconsolida il reparto difensivo. Avete ingaggiato anche un giovane di prospettiva che ho seguito lo scorso anno nell'area canatese, Lombardi, classe 2002, giovanissimo, 18 anni compiuti lo scorso dicembre, quindi è quasi un 2003, in prestito dal Monza, ma c'è la possibilità che il Teramo acquisisca nel tempo l'intero cartellino? Penso di sì, non abbiamo fatto in tempo per ragioni di carattere tecnico, perché comunque il Monza ci teneva molto a questo ragazzo, noi abbiamo chiesto di fare una valorizzazione del ragazzo, ma anche con un diritto di ricompera, perché comunque, torno a ripetere, questa società è una società che deve fare investimenti, quindi se noi valorizziamo, è bene che poi dopo se vediamo che sta crescendo e cresce bene, è bene che noi ne possiamo avere dei benefici nel medio periodo, quindi su questo però non è stato, ma c'è una parola d'onore tra le due società, quindi insomma c'è anche un buon rapporto con il Monza, con l'amministratore Gagliani, e quindi insomma credo che noi a giugno poi sistemeremo meglio le carte, adesso non c'era tempo per fare diritti di ricompera, ricompera, eccetera, quindi per non creare equivoci ci siamo dati la parola. In entrata non lascerete nulla d'intentato per l'attacco, aveva già capito dove volessi andare a parare. Sì, ho già fatto proposte a tre ferramenta per comprare le punte, le punte, perché gli chiedono tutti le punte. Allora, noi torno a ripetere, noi non lasceremo nulla d'intentato, anche se questa, diciamo la novità birlingea ci dà molta fiducia, perché effettivamente è un nostro ragazzo di proprietà, ha dimostrato che può fare molto, io credo che più si ha la possibilità di giocare e più si riesce a valorizzare o a crescere. Daniel può avere delle ottime prospettive, il nostro Pinzauti è un buon attaccante, infatti ha fatto quello spunto a Palermo, peccato che sembrava quello di Potenza, quell'altra bella rovesciata, questa volta gliel'ha presa il portiere, perché lui è capace di fare questi numeri, uno dei pochi è capace di fare quei numeri. Però comunque credo che in questo momento, sì, forse ecco, l'operazione Bunino che è uscita, è stata un'operazione giusta, anche quella perché con noi non si tratta, abbiamo Eric Gerbi che il mister ci crede, prima o poi vedremo se riuscirà a fare qualcosa, però insomma c'è anche il nostro K che comunque non ci dimentichiamo, insomma ce l'abbiamo, certo non saranno forse i calciatori a doppie cifre, però adesso abbiamo questi, poi di colpo possono esplodere, come l'anno scorso Cianci con noi non fece niente, quest'anno di colpo ha fatto 10 gol. Non si sente di escludere nulla sino a lunedì? Io non mi sento di escludere nulla mai, quindi sono sempre... Diciamo che è fatalista il Presidente del Teramo. Assolutamente, su questo non... io credo molto alla divina provvidenza, quindi quella può in qualsiasi momento apparire. E sul futuro societario, a proposito, Presidente, ci sono novità, lei aveva già detto delle cose importanti, chiare, no? Si auspicava anche l'allargamento della base societaria, a che punto siamo? Beh, io lo auspicavo perché la piazza lo richiedeva, però non ho visto... c'era una fila alla porta d'ingresso, non c'è nessuno che mi vuole dare una mano, purtroppo quello è un tasto dolente che è meglio non toccarlo, perché comunque purtroppo è facile parlare quando si sta dall'altra parte a leggere, insomma a fare le cose, poi quando si deve gestire le società, quando si devono tirare fuori i soldi, qui scappano tutti, scappano, quindi rimane sempre... Questo è vero, lei lo sta capendo in poco tempo, da un anno e mezzo alla guida della società, però tutto quello che sta dicendo è figlio anche, soprattutto nel momento che si vive, di grande difficoltà per questa pandemia. Ma assolutamente sì, è proprio per questo, io l'anno scorso avevo, avevo, tra virgolette, minacciato, ma non minacciato, avevo prospettato il fatto di non dilasciare, perché questa è una situazione ingestibile, cioè se questa è una società che viene abbandonata a se stessa, se non ci sono aiuti, perché deve essere sempre una e solo la persona che si sacrifica. Se poi vediamo che tutto il contesto continua a essere quello di prima, cioè statico, inamovibile, non vi vorrei ripetere sempre le stesse cose, ma se lei mi fa una domanda, ma a proposito avete sbloccato, le dico subito, avete fatto... niente, staticità totale. Presidente, l'ideale sarebbe il frazionamento del rischio in queste situazioni? L'ideale sarebbe il frazionamento, il concorso, ma anche il supporto, perché non dico che poi dopo la fine tutti debbano causare, però insomma segnali di supporto alla società, anche attraverso gli sponsor, sarebbero interessanti. Però lei non si è stancato? Guardi, io... Dopo un anno e mezzo non si può stancare, Presidente. Ma guardi, stancare non vuol dire... non vuol dire... cioè non farcela fisicamente, perché per carità io su quello sono un leone, io combatto fino alla fine, fino a che non esalo l'ultimo respiro io combatto. Però comunque non hai la voglia di fare molto di più. Io ero partito veramente con belle intenzioni, belle cose, belle iniziative, sto portando avanti, però... ti scoraggiano, ti scoraggiano a continuare a pensare, a crescere, a fare di più. Io naturalmente quello che sto facendo lo sto portando avanti, lo porterò avanti sempre nel miglior modo possibile, ma penso che con le mie... con il mio entusiasmo se avessi avuto qualcosa di più, non te lo nego, ma credo che avrei fatto tante cose di più. Però vabbè, c'è tutto, c'è da dire, il momento, la pandemia, tutto quello che ti pare, è una situazione difficilissima, quindi sono tanti fattori che hanno concorso un po' a rallentare questa spinta iniziale, però siamo qui, insomma, quest'anno stiamo andando bene. Ma Andrea Iaconi che fa? Va via, rimane, ci illumini, Presidente? Io ti posso dare un'esclusiva, a breve diventerà nonno, quindi... No, 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 Andrea è un validissimo supporto mio, una persona con cui io mi rapporto più volte al giorno, costantemente, dal lunedì alla domenica, quindi è una persona che mi dà un grosso supporto. E, diciamo, un grosso consigliere, un grosso consigliere, un grosso stratega, che è una persona che ha molto da insegnare a me, al direttore sportivo, all'allenatore, quindi è una persona di cui non si può fare a meno. Massima fiducia da parte del Presidente, dipende solo da Iaconi? Assolutamente sì, assolutamente sì.